E' già successo più volte di partire parlando di sfida quando si parla di ecumenismo, io però vorrei partire da una sfida che parzialmente abbiamo vinto, quella dell'accoglienza, ecco quello è stato un banco di prova molto interessante per l'ecumenismo, proviamo a tracciare un bilancio visto che tra l'altro il suo inizio di mandato è più o meno coinciso con la fase più acuta della crisi migratoria. I corridoi umanitari sono stati innanzitutto una grande scelta ecumenica e questa è la prima cosa bella che vorrei sottolineare, che ha coinvolto appunto la comunità di Sant'Egidio, la chiesa valdese, metodista, la federazione delle chiese evangeliche italiane e poi anche la CEI e devo dire che è la risposta a una grande sfida, la sfida migratoria è una sfida storica, cioè è inutile nasconderci, cioè i migranti aumenteranno sempre di più, soprattutto aumenteranno quelli che emigrano per il problema del creato, quindi dei cicloni, della desertificazione e poi delle guerre, eccetera. I migranti ambientali saranno in futuro di più di quelli delle guerre, quindi immaginiamoci che cosa sarà, per cui voglio sottolineare questo, cioè che non è solo un'azione benefica quella dei corridoi umanitari, ma è una profezia della storia. Questa è una sfida che, come abbiamo detto, si sta già affrontando e in parte è stata vinta. Se lei dovesse sceglierne invece una, su cui c'è ancora molta strada da fare per fare strada insieme, da dove partirebbe? Partirei forse dall'idea che sarà anche quella del sinodo della Chiesa Cattolica sull'Amazzonia, che è il problema del creato, l'ambiente, tutte le sue connessioni. Direi, di fronte all'ambiente in cui siamo, noi scopriamo come siamo connessi umanamente, ma siamo connessi anche con tutti gli altri esseri viventi. E questa è una grande sfida, perché vediamo che ci sono in realtà delle correnti molto contrarie a questo. E quindi io credo che noi, come cristiani, non possiamo non impegnarci in maniera determinata su questo fronte. Io lo vedo come, anche questo forse, una dimensione profetica. Rileggendo la Bibbia ne scopro sempre di più come la Bibbia su questo, in maniera forse diversa da noi, però riflette molto la connessione tra problema etico e problema del creato. Caos, diciamo, nella vita umana, nella non accettazione della differenza, pensiamo Caino e Abele per fare un esempio e poi anche caos nel mondo, il diluvio. La violenza umana crea, direi, il caos. Il diluvio è l'esempio di questo nella Bibbia. E quindi io credo che questa è una sfida che noi dobbiamo accettare. Ecco, e questo ci porta ben oltre però a livello ecumenico. Questo ci porta su un discorso che è quello del dialogo da cui non si può sfuggire, ecco. Quindi questo potrebbe essere in effetti, visto il caso, vista l'occasione più drammatica possibile, anche l'occasione più irripetibile per costruire un vero dialogo interconfessionale, non solo ecumenico. Noi cristiani forse abbiamo qualcosa dentro il nostro patrimonio di fede che forse non per giudicare gli altri, ma forse più di altri ci spinge in questa direzione. Noi dobbiamo far uscire da noi questa forza di una fede che fondata sulla parola di Dio sa esprimere diciamo risposte profetiche a un mondo che un po' sta vivendo il caos del diluvio e di Babele, diciamo anche, potremmo dire. Esiste ancora invece nel mondo delle religioni una competizione tra le fedi per, tra virgolette, fare profediti, ma non solo, diciamo anche per mantenere delle proprie posizioni? Beh, la competizione esiste. Io credo che noi cristiani abbiamo cominciato a capire come dobbiamo lavorare insieme nel rispetto delle identità, perché questo siamo diversi, dobbiamo riconoscerlo. Anche tra noi cristiani ci sono aspetti della nostra fede che ci dividono, ma molto ci unisce. Io credo che noi cristiani dobbiamo sempre più mostrare al mondo come nelle religioni c'è una profonda ansia di pace e di convivenza di cui noi dobbiamo essere portatori. Forse in questo noi cristiani abbiamo qualcosa di cui possiamo arricchire il mondo e anche il mondo delle religioni. Dobbiamo essere più propositive e coinvolgere di più gli altri, di questo sono molto convinto.